... Sì, non so... Ok? Ok? Tecnici, vedi che... Eh, posso dirlo... La difficoltà è... In sicurità in strada di questa volta... Non potete correre tutti! Non lo so... Oltre a scoprire... Ma che guarda, perché siamo fatti... Qua cosa è il centro? Oltre a scoprire a scoprire... Grazie a tutti. Grazie a tutti.